In diretta, buongiorno, siamo in diretta alle 7 in punto in questo venerdì, venerdì 10 aprile 2020, venerdì santo, un venerdì che ricorderemo, un venerdì diverso, un venerdì particolare come lo è stato tutto questo periodo e lo è questo periodo e lo sarà ancora probabilmente fino al 3 di maggio, così almeno il governo sta pensando di prorogare questa quarantena per tutti gli italiani, perché è vero, stanno diminuendo ma in alcune zone purtroppo c'è una ripresa dei contagi, come Milano per esempio, le marche ancora stiamo andando bene, quindi continuiamo a tenere, in questo momento continuiamo a tenere duro e continuiamo a fare quello che ci è chiesto di fare, quello che è il nostro dovere fare. Allora adesso, prima di andare a vedere i giornali, il santo, ma come abbiamo detto oggi è venerdì santo, oggi si celebra la passione di Gesù, il sole è sorto alle 6.32, tramonterà alle 19.46. Per quanto riguarda il tempo avremo cielo sereno su tutta la regione, con temperature in lieve aumento, sia per la giornata di oggi, sia per la giornata di domani, vedete sabato 11 aprile, con temperature ancora in aumento e la giornata di Pasqua sarà una giornata soleggiata su tutta la regione, con qualche addensamento nuvoloso soltanto nell'entroterra. Qualche cambiamento lo avremo soltanto nella giornata di martedì, ma intanto anche lunedì, giorno di Pasqueta, sarà comunque caratterizzato dal bel tempo. Corriere Adriatico, apertura di oggi sull'edizione di Pesaro, l'epidemia frena, la serrata però s'allunga, il governo vuole stendere la chiusura fino al 3 di maggio, c'è riscioli, più stiamo a casa, prima ne usciamo, nuovi positivi sotto quota 100, per la prima volta il totale dei dimessi e dei guariti supera quello dei decessi, infatti i dimessi e i guariti sono stati 885, i decessi 682. Per quanto riguarda invece la fotonotizia a centropagina, il Corriere Adriatico pubblica una macchina, una panda, vedete, in seconda fila. Ora, questo chiaramente dice tutto, nel senso, non solo questa panda, ma c'è anche quest'altro furgone, per esempio, in seconda fila. Il che cosa significa? Significa che la gente non sta a casa, c'è troppa gente, lo dicevamo ieri, c'è tanta gente, troppa per non essere un grande pericolo. Se le auto sono lasciate in doppia fila, come si fa a parlare di città chiusa? Intanto l'altra foto invece è per il sindaco di Pesororici che oggi consegnerà le mascherine. Tamponi a casa, senza dispositivi, la squadra sono alla palo, mentre sul turismo c'è l'allarme, nessuno straniero e rischia persino il Rossini Opera Festival. La Fano invece a Pasqua, il pranzo, arriva a domicilio, attenti però ai contenitori. Questo è l'arresto del Carlino, la fotonotizia. Un poliziotto più forte del virus, un agente racconta il suo calvario, temevo di morire, sono un miracolato. E poi il potere delle parole con le psicologhe in azione, il team che allevia il dolore, curiamo i malati e anche i sanitari. In che senso? I sanitari che vivono i sensi di colpa, vivono quel senso di colpa che purtroppo c'è quando queste persone, come appunto i medici, gli infermieri, hanno tra le loro mani persone che purtroppo poi magari non ce l'hanno fatta. Avrebbero potuto fare di più, avrei potuto fare di più, questo un un po' il senso di colpa che viene fuori. Pasqua, il titolo invece d'apertura, mille uomini anticontagio. Le divise via mare, terra e cielo anche con l'elicottero per evitare ogni movimento che favorisca l'epidemia. Dunque attenzione perché c'è la stretta di Pasqua già annunciata dal prefettore di Pesurubino nei prossimi giorni. A un uomo di 91 anni invece i carabinieri hanno portato a casa la pensione, non poteva muoversi, ha 91 anni, un ex imprenditore e dunque ci hanno pensato loro. Villa Fastigi, quella struttura deve aprire, le accuse di Belloni. L'epidemia, siamo sul Corriere, ancora in frenata, ma la serata dura tutto il mese di aprile. Il governo sta per prorogare i divieti fino al 3 di maggio. Ceriscioli, più restiamo a casa. Ora, prima, ripartiremo nuovi casi positivi sotto quota 100. Per la prima volta il totale dei dimessi, come abbiamo visto, e dei guariti supera quello dei decessi. Il totale dei contagiati sfiora i 5.000 ma cala il numero degli attuali. In un giorno si sono liberati 29 posti letto nei reparti Covid-19. Torrette di Ancona, test su 3.800 sanitari, lo screening degli anticorpi decisivo anche per la fase 2. Iniziati ieri gli esami sierologici, a tappeto per il personale degli ospedali riuniti. Menzo, che è della virologia, dice serve per la prevenzione e per stimare l'immunità di greggio. Ancora dai quotidiani, dal Corriere Adriatico. Guardate queste fotografie. Non è una città in quarantena. Qui siamo in via Vincenzo Rossi. C'è chi pedala, chi porta il bambino, chi chiacchiera amabilmente. In Viale 24 maggio addirittura capanelli di gente, macchine in seconda fila. Questa non è la quarantena. La gente ha allentato. È vero che la gente comincia a essere stanca, ma purtroppo dobbiamo ancora rimanere a casa. In strada bambini con genitori, anziani in bicicletta, donne con la spesa, ognuno con il suo giusto motivo, ma tutti insieme rappresentano una bomba pericolosissima. Il bel tempo non aiuta, ma allentare l'attenzione procurerà soltanto dei guai. Festività pasquale blindate. Mille agenti per i controlli, sempre dal Corriere. Il prefetto di Pesero e Urbino ha organizzato i servizi per il rispetto del divieto degli spostamenti, presidiati luoghi di attrazione anche con gli elicotteri, chiuse tutte le piste ciclabili. Cosa dicono i rappresentanti delle forze dell'ordine? Intanto il questore, tra l'altro arrivato da poco a Pesero, faremo rispettare le norme con grande scrupolo, dice Michele Todisco. Luciano Ricciardi dei Carabinieri, spezioneremo la città anche con i sorvoli, anche con l'elicottero, mentre Simon Luca Turriziani della Guardia di Finanza, siamo al fianco dei cittadini e faremo delle verifiche. Massimo Marcedo dell'esercito, restate nelle case, supereremo questa emergenza. E poi, come dicevamo, la consegna di un carabiniere a casa di un pensionato 91enne della pensione in questa fase di emergenza ha chiesto ai carabinieri di consegnargli la pensione. Si tratta del primo caso nella provincia di Pesero dopo la convenzione sottoscritta da poste italiane e dai carabinieri per ridurre gli spostamenti delle persone più fragili e anche per metterli al riparo da possibili truffe e da possibili raggiri. Pasqua Blindata, anche il resto del carlino, titola così con mille uomini. Intanto il sindaco Ricci chiude le piste ciclabili. Teniamo duro, il prefetto Lapolla ha preseduto ieri mattina un comitato per l'ordine e la sicurezza disponendo un aumento dei controlli anche con gli elicotteri. Sotto rimarrò qui, dice a proposito delle feste di Pasqua, rimarrò qui in prefettura con mia moglie senza poter incontrare le due mie figlie e i parenti. E anche il resto del carlino pubblica le dichiarazioni o comunque le varie disposizioni dei vari comandi, dei vari corpi di polizia, anche per esempio la polizia stradale. Qui vedete Antonio Colantuono. L'impegno, dice, l'impiego degli operatori della Polstrada è stato finora massimo e in A14 i servizi non sono mai scesi sotto le 8-10 autopattuglie al giorno. Tamponi a domicilio, soldi dalle fondazioni, le squadre USCA a Pesaro non riescono a partire, mancano attrezzature e dispositivi. Cari e Carifano in campo per l'acquisto di saturimetri, elettrocardiografi ed ecografi. Nessuno mi dice se i miei esami sono andati bene su un profilo Facebook con grido di dolore per la sua condizione di paziente oncologico ma anche un dramma che riguarda tante persone e lo scrive Francesca che dice capisco tutto ma non accetto che per visionare tramite email degli esami per fare una terapia oncologica inviata ieri mattina in attesa della risposta e fino ad oggi io non ho ricevuto praticamente nulla. E poi sotto cassa integrazione all'Aset, doccia fredda per il Comune, la Lega giudica affrettata la decisione di Reginelli il bilancio è da rivedere. E poi il Vescovo che scrive alle famiglie delle vittime ho bisogno di farvi un po' di compagnia, la lettera parla di fragilità e di disorientamento la speranza nella Pasqua fate rotolare la pietra della morte, riferendosi ovviamente al sepolcro. Poi la celebrazione della Passione oggi in diretta su Fano TV alle ore 17 il Vescovo Trasarti celebra i riti pasquali nella Cattedrale di Fano in diretta televisiva su Fano TV che diffonde gli eventi anche sulla propria rete social. Oggi, venerdì santo, l'appuntamento è alle 17 con la Passione del Signore domani la veglia pasquale nella Notte Santa è prevista alle ore 18 mentre domenica la Pasqua del Signore, la Pasqua, la Rissurrezione del Signore verrà celebrata alle ore 10 mentre un'ora dopo è programmato sempre su Fano TV l'inizio delle celebrazioni con Papa Francesco. Per la resilienza, hashtag a casa faccio, nasce un gruppo Facebook a Fano promosso dal Comune per usare attivamente il tempo della clausura anti-Covid-19. Sei aree tematiche che mettono in rete molte risorse come la ginnastica, lettura, cucina, teenager, arte e tecnologia. Poi sempre il Sindaco di Fano invita i bambini a rispettare le regole abbiate pazienza e fiducia nel nostro futuro. Siete stati bravi, ha detto, continuate ancora perché c'è bisogno, dobbiamo stare ancora a casa. Intanto a Famiglia Nova altre vittime, emergenza continua, non accolta la richiesta di eseguire tamponi su tutti gli anziani che sono ospiti. A Fano sempre però dal resto del Carlino, emergenza, sanità, la Fondazione CEA, il Presidente di Gragnola, già fatto un intervento da 100.000 euro, ora pensiamo ad uno nuovo. Intanto architetto fanese per il Sant'Arcangelo, si tratta di Stefano Fossati, romano d'adozione, e poi patrimonio carifano per gestire l'epidemia, bene comune, rilancio, la battaglia nazionale fatta da alcuni economisti, i cittadini hanno già dato. Vende maschere con ricarico del 331%, siamo nella pagina del Corriere Adriatico di Cattolica, si riferisce comunque a Rimini, fiamme gialle denunciano un negoziante. E poi a proposito di costi salati per quanto riguarda le mascherine, non solo in Romagna ma anche ad Ancona, voltoi delle mascherine da 80 centesimi a 8 euro, i farmacisti sono vittima della legge domanda offerta, super rincari, siamo sommersi di telefonate richieste, come arrivano spariscono praticamente subito. E dalla farmacia, da questa farmacia di Ancona, si parla di prezzi lievitati però a monte, noi ci guadagniamo poco, praticamente queste mascherine che vengono vendute anche a 22 euro, le FFP3, che sono quelle che vanno ai sanitari, insomma sono mascherine che costano, con i filtri e tutto quanto, però diciamo che il prezzo viene fatto già alto da chi le fornisce ai farmacisti. A Monte Cincardo invece l'avanguardia delle mascherine, inizia oggi la distribuzione, il sindaco di Pesolo Ricci consegnerà le prime, grazie ad una banca di peso della Croce Rossa italiana, tesoretto di 230 mila dispositivi, dispositivi, poi sotto 20 infermieri guariti, attendono da giorni però i tamponi, la testimonianza parla di ritardi ed errori anche nei checkpoint. La Pasqua in quarantena, ma ogni sfizio è possibile, i ristoratori si affidano alle consegne a domicilio dei ricchi pranzi di queste feste, come controllare il rispetto delle norme anticontagio per contenitori di trasporto. Intanto guardate questo capriolo che si mette in fila per la spesa al Conad, qui siamo a Vallefoglia, forse anche lui aveva finito il lievito, un capriolo scrive il giornale alle 8 di ieri mattina è sceso dalla collina di Montecchio e senza paura ha osservato da vicino i presenti. Ora, la battuta, forse anche lui aveva finito il lievito, è una citazione che probabilmente è venuta fuori, è stata tratta da qualche social, perché in effetti anche trovare il lievito in questi giorni è difficile, come dire, tutti a casa a fare pasta, pizza, dolce e quant'altro. Fatto stai che trovare il lievito è difficile, poi alcuni supermercati però si sono dedicati, hanno scritto un cartello dove c'era l'indicazione che non se ne poteva prendere più di uno o due confezioni a testa. Clic dedicato ai ritardatari sulla pagina digitale di Fano riguardante il servizio di consegna a domicilio compare una lista di quasi 70 attività fanesi tra ristoranti, pizzerie, gastronomie, pasticcerie, gelaterie e altre ancora. E quindi se avete bisogno, perché ce lo chiedono anche a noi, se avete bisogno di consultare, di capire chi sono quelli che consegnano a domicilio, sul Comune di Fano, nella pagina del Comune di Fano, c'è l'elenco aggiornato. Non vedremo uno straniero, torniamo a parlare di crisi economica, a Pesero, anzi, c'è persino il rischio che salti il Rossini Opera Festival. Oggi era atteso l'arrivo di 4.000 persone. Il presidente degli albergatori, Oliva, dice è cancellato anche il primo di maggio. Varotti, arrivano le bollette dell'acqua e gli albergatori non sono in grado di pagare. Questo lockdown di Pasqua, dove Pesero perde 4.000 turisti e ora gli albergatori lanciano il messaggio per l'estate. Solo turismo italiano, non verrà nessuno dall'estero. Il ROF è a forte rischio. In questo fine settimana pasquale, delle 4.000 persone che erano attese, soprattutto legate agli eventi sportivi, che come ogni anno si accendono proprio a partire dal ponte di Pasqua, di questi 4.000, di queste persone, non se ne vedrà assolutamente l'ombra. Non ci sarà nemmeno l'ombra di un turista in giro per la zona del mare. Intanto dalla Ferrero arrivano 220 uova di Pasqua. Grazie, recita il cartello, fatto dai dipendenti di Marche Nord, per ringraziare l'azienda Ferrero, che ieri mattina ha consegnato 2.200 uova di cioccolato per ogni dipendente di Marche Nord. 20 bancali da 120 uova ciascuna. Bussano i Carabinieri, ecco la sua pensione. Prima consegna ieri mattina da parte dell'Arma in Via Giordano Bruno ad un ex imprenditore di 91 anni. Servizio attivato per chi non può muoversi. Il maresciallo Pietro De Donno ha il compito di eseguire i prelievi, ovviamente con delega. Come fare? Basta chiamare il 112 e mettersi in lista. Ho chiamato il 112 per mettermi in lista. Fino a due mesi fa andavo da solo alle poste, che sono qui vicine, ma ora i miei figli, ne ho sette, poi più i nipoti, mi hanno tassativamente proibito di fare anche un solo passo fuori casa e qui perché sarei rimasto contagiato senza alcun dubbio. Allora sono rimasto chiuso e sono qua chiuso in casa da un mese e mezzo, dice questo 91enne, e mi fanno arrivare il pranzo, tutto quello che posso, dalla finestra e per questo dopo aver chiamato il comandante della stazione è venuto qui a casa al terzo piano, tutto ben protetto, con mascherine e guanti, e ha preso la delega a mia firma per andare a ritirare la pensione. E poi, vedete, la fotografia gliel'hanno consegnata. Ecco il maresciallo, comandante della stazione dei Carabinieri di Pesaro, che consegna la prima pensione a domicilio al 91enne, Franco Rinolfi. Al centro Codma, e siamo di nuovo a Fano, sul resto del Calino, effettuati 100 tamponi, a Rosciano i test praticati senza scendere dall'auto, i risultati saranno resi notti nei prossimi giorni, poi sarà la volta del secondo esame. Tante le auto incolonate ieri, ma tutto è filato liscio. Intanto l'idea del parroco a San Giorgio, che ricorda i defunti, anche grazie alle foto sui social, una collina di Spoon River accessibile sul web, così i residenti omaggiano chi non c'è più. È una notizia che arriva da Borgo Massano, Monte Calvo, in Foglia. E la sorpresa ai tempi dell'epidemia. polveri sottili, picchi inusuali, in provincia cresce l'allarme, rilevati, valori preoccupanti, traffico di emissioni molto più limitate, facevano ben sperare, ma non è bastato. Dunque, un'ondata inaspettata di polveri sottili che ha investito i giorni scorsi tutta la provincia di Pesaro Urbino facendo schizzare a picchi inusuali le centraline di Pesaro Fano e anche Urbino. Sabato 28 marzo la stazione di monitoraggio del Parco Scarpellini ha rivelato una media giornaliera di PM10 di 117 microgrammi M3, valori davvero preoccupanti che rappresentano più del doppio del limite di protezione della salute pubblica stabilito dall'Unione Europea in 50 microgrammi M3. Insomma, è un problema, anche questo, è una vera stranezza visto che tra l'altro questa emergenza ci sta più o meno insomma tenendo tutti quanti a casa e comunque visibilmente il traffico è diminuito rispetto ai giorni normali. Però c'è questa ondata strana, questo aumento di polveri sottili. Feduzzi intanto da Fermignano, il sindaco, scrive a Spadafora aiuti lo sport dilettanti. Il sindaco chiede misure per i sodalizi locali defiscalizzare le sponsorizzazioni e poi l'arcivescovo di Pesero, Piero Coccia, abbiamo bisogno di rinascita, le parole alla città siamo di pasta buona. Un lunghissimo messaggio quello di Piero Coccia dedicato ai pesaresi e il giornale scrive alcuni stralci. Poi ci sono due pagine invece sul Corriere Adriatico di questa mattina, alcune pagine interessanti, devo dire, per esempio guardando in avanti ovviamente e guardando all'estate con ottimismo, ce la mettiamo tutta da essere ottimisti ovviamente, ma insomma per quanto riguarda gli stabilimenti balneari il Corriere Adriatico questa mattina ha raccolto un po' di umori, un po' di umori di concessionari di spiagge un po' sparsi per tutta la regione, dai bagni 77 di Senigallia fino a Raffa e il Biccio di Civitanova, San Benedetto, Pesaro, eccetera, eccetera. Allora, per quanto riguarda chiaramente la tintarella estiva, bisogna cercare, si cerca di capire come sarà quest'estate, perché quest'anno sarà dura, dicono, il pesarese Sparacca dice io porto già il lettino a domicilio e in poche ore ho già ricevuto 100 richieste, spiaggia delimitata, check-in all'arrivo, 4 al massimo sotto l'ombrellone, la priorità sul litolare è aprire quanto prima, se non lo farà il governo è pronta certamente la regione, in questi giorni leggiamo spesso di concessionari che chiedono la possibilità di cominciare a lavorare la spiaggia, cominciare a sistemare le dune, e cominciare ad appianare un po' tutto quanto, a ripulire il litorale eccetera, eccetera, ancora tutto questo non è possibile, tutto fermo, però si sta cominciando a chiedere con insistenza di poterlo fare. Alzi la mano chi davanti al sole primaverile non ha pensato all'estate a una bella corsetta, una passeggiata per tenere vivo il tono muscolare. Nel mondo alla rovescia che nascerà dopo il coronavirus, quelli dell'accoglienza in spiaggia e del fitness saranno due mondi stravolti, anche quello del fitness, la pagina dopo riguarda le palestre. Basta interpellare alcuni tra gli imprenditori che gestiscono stabilimenti balneari oppure che hanno puntato sul business dei benessere, per loro sono giorni lunghissimi alla ricerca di preventivi, soluzioni e spesso anche di nuovi modelli di business, come appunto diceva il pesarese che diceva io sto portando i lettini a casa, a domicilio. Mentre sul fronte delle palestre, anche qui ci sono alcuni tra i gestori titolari di wellness, di palestre e quant'altro, che dicono spostiamo l'attività all'aperto d'estate, guante, asciugamano per combattere il sudore. Io sanifico anche 15 volte sala pesi e spogliatoi, la mascherina per i corsi, spero di no, temo però che sarà così. Della mascherina io penso che anche la dovremo portare a lungo. Intanto Orbino, collegi, grand hotel per 300 studenti, corsi online di vieto di promiscuità ma ampi spazi, più pranzo e cena grazie al servizio mensa che resta aperto. Brincivalli, direttore di Erdis, dice sono rimasti qui e si comportano bene. qui anche per la Pasqua. Adesso studiamo l'accesso a sport e cultura. Poi uove colombe anche all'ospedale di Urbino, questa volta a donarle la Caffarella e sotto urgente un consiglio servono interventi mirati. I consiglieri Nicolini e Borlenghi a Urbino del centro-destra lanciano l'idea mappatura per chi lavora. La regione aveva il piano antipandemie sempre dalla pagina di Urbino però del resto del Calino. Lo svela il consigliere Pier Giorgio Fabri dei Cinque Stelle. Si simulano gli scenari e un software elabora impatto e soluzioni. Elaborato nel 2007 doveva servire per affrontare disastri come quello attuale. Caffarella il dono a Colombe uova ai sanitari dell'ospedale di Urbino la consegna è stata fatta dall'Associazione Nazionale dei Carabinieri un gesto molto apprezzato dai destinatari. Intanto la MHL SRL di Cagli regala 700 sacchi di pellet ai cittadini di Urbino. E poi sulla pagina della Valeria del Cesano invece da Pergola troppa attesa per i tamponi paura per il centro anziani ASP un decesso e anziani in isolamento il caso sollevato pubblicamente da Pergola nel cuore a San Costanzo invece distribuiti buoni spesa a 84 famiglie il comune apre un conto corrente per ricevere delle donazioni. Intanto a Fossombrone il sindaco Bonci vedo gente in giro restiamo a casa un videomessaggio del sindaco preoccupato per la Pasquetta stato di allerta invece per la casa di riposo per quanto attiene la situazione a Fossombrone dice il sindaco Bonci il dato aggiornato del nostro comune è di 26 casi di positività 50 alle quarantene di cui però alcune dovrebbero essere già scadute per il capitolo invece buoni spesa è iniziata la distribuzione alle famiglie aventi diritto tramite volontari della protezione civile. a Pesaro invece in giro di notte sullo scooter rubato record di multe per due minorenni 17 anni residente a Borgo Santa Maria uno di origine straniera e l'altra di origini siciliane alle 11.30 circa di mercoledì in due in sella ad uno scooter senza casco hanno incrociato in via Pantanelli una pattuglia dei carabinieri della stazione di Montecchio di Vallefoglia naturalmente per loro paletta documenti e poi multe a gogo tra cui anche quella che va dai 400 ai 3.000 euro e poi si parla sempre sui quotidiani questa mattina da Senigallia di un'anziana che ha detto quando le hanno portato i buoni spesa no dateli a chi ha più bisogno di me la donna si prende cura del figlio rimasto senza lavoro intanto ignoti svuotano il frigorifero solidale che cos'è il frigorifero solidale? è un frigorifero come vedete in questa fotografia che sono stati messi un po' sparsi nella città e che servono dove chi può mette dentro e chi non può invece prende è il caso di questo caso però qualcuno ha preso troppo due ragazzetti due ragazzi che per tre volte hanno riempito tre grandi buste sono stati notati anche in altri punti di raccolta e adesso non lo so non so cosa succederà però comunque fatto è che insomma non va bene ossigeno alle imprese invece il sindaco Mangialardi di Senigallia dice la Tari la tassa verrà posticipata dopo l'appello degli operatori economici è pronto a far slittare una serie di imposte al 16 luglio non lasceremo nulla di intentato e faremo tutto ciò che sarà possibile mentre la scuola di Senigallia è in lutto perché è morto l'ex Bidello Guido Marchetti aveva 85 anni fuggono all'alte cadono poi sono state denunciate anche il resto del Carlino parla di questo inseguimento sulla Monte Labattese due diciassettenni di Borgo Santa Maria e poi un controllo che è andato male per questo pizzaiolo la pizzeria infatti sfornava al momento le pizze alla clientela la municipale ha bloccato tutto gli ha fatto la multa e ha chiuso la pizzeria una pizzeria nella zona di Cattabrighe sempre nel Pesarese che garantiva il servizio da sporto ma non aveva capito esattamente che cosa volesse dire a sporto in realtà invece di portare le pizze a domicilio a casa delle persone voleva che il cliente andasse a prenderle in pizzeria dunque di conseguenza è stato multato e chiuso intanto sulle pagine interne del resto del Carlino i vari riti della passione di Cristo oggi abbiamo detto venerdì santo ci sono alcune alcune rappresentazioni tra l'altro anche importanti famose come quella del passio di Serravale di Carda quella di Sialtara Cagli tutto rinviato al prossimo anno tutto è saltato anche i riti cagliesi saranno in diretta su Facebook alle 22 in strada col cappuccio la tradizione non si spegne tutti faranno un selfie con la candela accesa quindi mentre la passione la passio di Serravale di Carda è rinviata al prossimo anno i riti cagliesi saranno in diretta su Facebook non so come saranno messi quanti saranno ma comunque quello che c'è sul giornale di questa mattina è che si farà ma chiaramente con giusto il minimo sindacale con le persone che servono per la rappresentazione alle 20 e 30 questa sera c'è il telegiornale occhio alla notizia ma come avete sentito anche come abbiamo letto poco fa dalla nostra assegna stampa sono anche diverse le dirette in programma oggi qui su Fano TV in tutto questo periodo in questo triduo pasquale abbiamo sia le dirette con il Vescovo della Diocesi di Fano Fossombroni Cagli e Pergola Armando Trasarti con in diretta oggi alle 17 sia con il Papa Papa Francesco quindi prima trasmetteremo quello della Diocesi oggi la passione alle 17 quella della Diocesi poi alle 18 invece in collegamento con San Pietro quella con il Papa Papa Francesco per tutti voi che siete a casa vi ricordo alle 10 e alle 16 l'appuntamento con Io resto in forma che tanto successo sta ottenendo tanti messaggi ci stanno arrivando per ringraziarci di questo servizio per darci consigli suggerimenti e quant'altro chiaramente noi le rigiriamo questi messaggi poi sia alle due insegnanti Emanuele e Giada che mi fanno i corsi ogni giorno qualcuno vorrebbe che fossero più lunghi perché il tempo di scaldarsi poi è già finito poi insomma chi la vuole cotta chi la vuole cruda ma comunque questo è noi abbiamo un palinsesto più di quello non si può fare da gestire grazie comunque per essere stati con noi grazie per tutto l'affetto grazie per tutte le cose che ci ogni giorno ci fate sapere ci fate continuiamo in questo senso a tenere a stare uniti e a portare avanti questo ad andare avanti in questo momento un po' complicato noi ci vediamo stasera dicevo grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.